Puro come il platino, brillante come il diamante. E l'ulivo bianco, la scultura di Agatino Cappella, direttore artistico di World Diamond Group, ammirabile fino al 15 dicembre a Palazzo Lascaris, nella mostra intitolata L'ulivo bianco, purezza, luce e pace per i 150 anni dell'Unità d'Italia. Si tratta di una preziosa opera di artigianato made in Italy, composta da una base in radica di ulivo, il tronco principale in marmo di Carrara, i rami e le foglie sono stati realizzati con 3.333 grammi di platino. I frutti sono stati creati con 3.003 diamanti, di cui 2.503 taglio marchise, 333 carati e 500 taglio d'luce, taglio rotondo e brillante a 82 faccette per 33 carati, per un peso totale dei diamanti di ben 366 carati. L'opera ha richiesto un percorso di realizzazione che va dalla Sicilia al Veneto. La realizzazione ha infatti avuto inizio ad Adrano, Catania, con la lavorazione del marmo e si è conclusa a Quinto Vicentino, a Vicenza, con la fusione e la lavorazione del platino. L'opera vuole così simboleggiare la coesione di un popolo da sud a nord e celebrare il 150esimo anniversario dell'Unità d'Italia. La mostra è completata da una serie di pannelli che illustrano le fasi di lavorazione del prezioso ulivo e che ricordano le tappe salienti della storia del gioiello dall'Unità d'Italia ad oggi. L'opera sarà visitabile a ingresso libero con i seguenti orari, da lunedì a venerdì dalle 10 alle 18, sabato dalle 10 alle 12 e 30.